A Venezia parliamo in veneziana. A Venezia è nata dopo che è finito l'impero romano e per i miei anni è stata una delle città più importanti del mondo. Adesso invece è diventato un museo perché è più da conquistare terre nel Mediterraneo in giro per il mondo come se passavamo una volta, i commerci non passavano più per Venezia perché una volta passavano tra l'Asia e l'Europa, passavano tutto per Venezia per cui c'era un sacco di gente piena di schei che potessero costruire quella meraviglia di città. Una volta c'erano anche 200.000 abitanti a Venezia, c'erano tanti. Adesso c'erano sempre di manco, c'erano solo 50.000 abitanti, ma soprattutto i turisti. C'erano che ogni giorno in media la popolazione di Venezia è raddoppia, diventa il doppio perché se c'erano 40-50.000 veneziani c'erano anche ogni giorno 40-50.000 turisti in media. Vuol dire che l'inverno non c'erano manco, ma l'està non c'erano più. Cioè l'està non c'erano più turisti che i veneziani che vivono in città di Venezia. Quindi immaginiamo che è difficile per i veneziani vivere a Venezia con tutta questa gente, questa invasione che vivono. però non possiamo anche lamentarsi perché la maggior parte della Venezia vive proprio con i skate che vengono dai turisti. Per cui bisogna capire come migliorare la situazione, forse limitare il numero dei turisti, ma aumentare i posti di lavoro a Venezia. Una volta che c'erano al porto, adesso venezia sempre nel banco, tutte le più grosse istituzioni come i giornali, le sedi dei giornali, si trasferirono in terraferma perché c'era una massa difficile per la gente di terraferma venire a Venezia ogni volta che doveva tolsi un documento. E voilà, questa è Venezia, insomma, adesso è il giorno d'oggi. Ciao!